Mister, vittoria sofferta, la prossima sarà una gara ancora più importante per il proseguito del vostro campionato. Come la vuoi raccontare questa partita? È stata una partita che dovevamo chiudere prima per il numero delle occasioni che abbiamo avuto e invece siamo arrivati al ridosso della fine della partita per fare il secondo gol. Quindi ora testa a domenica perché abbiamo ancora tanto da recuperare. Qual è il campionato del pezzo in virtù di questa vittoria? Noi stiamo ora ragionando partita in partita, ora pensiamo a Conversano e cerchiamo di risalire la classifica prima possibile per poterci proiettare magari nel periodo prima della pausa di gennaio in una posizione a ridosso della zona playoff. Il vostro numero 10, il capitano, è un valore aggiunto per questa squadra perché ci sono molti ragazzi nello spogliatoio? Sì, il valore aggiunto è la squadra, il gruppo, la compattezza. Non parliamo di singoli, però Pertusa anche oggi ha deciso lui con due gol e noi potevamo fare altrettanti. Quindi ripeto, sono contento di aver vinto, di non aver subito gol, però meno contento di non aver chiuso prima la partita.